Devo dire che siete proprio grandi, ho sentito questa vostra energia tua e di Anna Maria fortissima, fortissima, avete fatto una cosa veramente che mi è scoppiata dentro, mi ha dato grande soddisfazione partecipare a questa cosa e perché sono riuscito a concretizzare dentro di me delle cose che io avevo già sentito, letto, ma adesso proprio le sento dentro, veramente. Grazie, grazie, vi devo ringraziare molto per questo.